Qui non siamo in campagna elettorale, non va neanche nominata la campagna elettorale perché io sono il presidente in carica, quindi non posso fare campagna elettorale mentre lavoro, devo continuare a lavorare fino all'ultimo giorno, probabilmente non riuscirò a fare la campagna elettorale ma certamente continuerò a fare il presidente fino all'ultimo giorno. E' in questo lavoro importante che significa anche dare attenzione alle piccole cose perché le piccole cose in un momento di emergenza sono importantissime. La regione Puglia ha messo in campo manovre da 750 milioni di euro per sostenere tutte le categorie, persino le singole partite IVA e questo ovviamente non impedisce a ciascuno di noi di fare una piccola cosa per aiutare chi sappiamo essere in difficoltà dopo un momento così pesante. Il PIL europeo crolla di 10 punti dopo il Covid, quindi è evidente che ci aspettano anni durissimi, aspettiamo una seconda ondata di contagio che quasi certamente arriverà, occorre avere la squadra compatta, deve essere una specie di testugine romana che deve affrontare il futuro, quella dell'economia e quella della sanità in modo assolutamente solidario. Quindi ringrazio l'aspa addolorata per questo piccolo segno e anche perché è una bellezza in più che si aggiunge alla città. Il muro della gentilezza è una parete a cui chiunque può apporre con debitamente lavato e stirato un accessorio di vestiario, quindi un cappotto, più in là ci saranno le coperte quando inizierà l'emergenza freddo che sono ancora più importanti. Quindi possono lasciare un vestito e chi ne ha bisogno può venire a prenderlo. I vestiti e le magliette e le scarpe devono essere accuratamente ovviamente lavati, stirati, appoggiati con una gruccia e con la plastica. Questo l'abbiamo fortemente voluto perché vogliamo che non sia semplicemente l'attività di svuotamento degli armadi quando non abbiamo cose che non ci piacciono più, ma deve essere proprio un gesto di consapevolezza che deve servire anche a ricreare e a mettere in circolo questa economia virtuosa della solidarietà.